Sergio Fiorini, Gabriele Sarracco torna all'appuntamento con le città di Cirecchia di tennis in carrozzina. Come sarà quest'anno, quest'anno particolare? Beh, giustamente particolare. Non mi nascondo che ci sono state grosse difficoltà nell'organizzazione, ma poi con la volontà, l'aiuto sempre dei nostri amici, siamo riusciti anche per quest'anno a mettere su questa bellissima manifestazione. Ci sarà un lotto di atleti molto qualificante, perché avremo la rappresentanza di atleti che stanno stabilmente nelle prime 50 posizioni del mondo. Quindi ci aspettiamo sicuramente una grossissima manifestazione. Quindi ancora più internazionale questo torneo? Ancora più internazionale, considerando che più del 50% dei partecipanti arriverà da tutte le parti del mondo. Presidente, è stata una grande soddisfazione poter essere vicino anche a queste persone che danno tanto anche per lo sport. Soddisfazione tantissima, abbiamo sentito ora a quali livelli siano riusciti ad arrivare. Ma io direi che è doveroso, doveroso da parte nostra sicuramente, ma anche di tutti coloro che partecipano ad aiutare questo evento, perché è un evento particolare. Si premiano in questo modo, facendoli partecipare al torneo, persone che hanno bisogno più di altre.